L'ignoto, ho deciso di parlarvi di lui, del futuro. Forse perché, avendo 24 anni, tanti ragazzi e ragazze della mia età vivono quel momento di transizione tra l'adolescenza e l'essere adulti, fatto delle prime responsabilità di un certo tipo, del primo e proprio ingresso in società, potremmo dire, con tutti i dubbi, i quesiti, le preoccupazioni, le domande. Chi saremo? Cosa faremo? Inizia un po' a costruirsi quella che è la relazione, complicata, stravagante, con il domani. Poi però, ragionando tra me e me, mi sono detta, no, ferma Carolina, stoppati un attimo. Il futuro non è un argomento generazionale, non riguarda dei livelli, delle età specifiche. Il futuro è qualcosa che abbiamo in comune tutti noi, proprio come esseri umani. E quindi ho deciso di rappresentarvelo così, nero. Qualcuno di voi magari si stava dicendo, mamma mia che angoscia, adesso vi spiego perché ho scelto il nero. Anche se in realtà con i tempi che stiamo vivendo potrebbe anche starci un pochettino, eh? Ho scelto il nero però perché se ci pensate bene, nella scala di colori che noi abbiamo a disposizione, il nero è l'unico colore che non fa trapelare nulla. Il nero nasconde. Il nero non ti fa vedere. Avete presente quella sensazione di estrema attenzione un po' sul chi va là quando camminate in una stanza o in un corridoio buio. Utilizzate al 100% delle vostre possibilità i cinque sensi. L'udito, per sentire se c'è qualcosa o qualcuno intorno a voi. Il tatto, per stare attenti a non farvi male, in primis. Magari lì c'è un tavolino, lì c'è un armadio, una mensola. Ma quando eravamo bambini e ci immerdevamo nel buio per le prime volte, noi avevamo paura perché non conoscevamo. E allora io vi chiedo, in piena onestà, se vi va per alzata di mano, quanti di voi hanno paura del futuro? Ok, qualcuno, qualcuno intravedo. E se ci pensate spesso la paura ti colpisce in maniera diretta. Da un punto di vista fisico mi fa venire il mal di pancia, mi irrigidisce, non mi fa stare bene. O da un punto di vista invece emotivo. Ansia, preoccupazioni, angoscia. Può colpire la nostra vita lavorativa, quella privata o addirittura entrambe. Pensate ad esempio ai ragazzi che si laureano all'università e più o meno tutti vivono un po' quella crisi mistica del troverò un lavoro. Troverò un lavoro che avrà un senso con la mia laurea e sono le stesse paure che in un contesto completamente diverso vivono le coppie che si separano, genitori o anche senza figli. Sicuramente uno dei due spesso, di solito, chi viene lasciato in un dialogo molto intimo con se stesso, si sarà chiesto, sarò ancora felice? Troverò la mia altra metà? E vi posso dire che io, da figlia di genitori separati, ogni volta che immagino i miei genitori invecchiare in solitudine, provo sofferenza e si vede. Provo questa sofferenza. Quindi voi immaginatevi il cervello. Immagino uno scenario, ok, che magari non accadrà mai o magari accadrà e mi genera delle emozioni. E sono le stesse domande che fanno i bambini quando hanno 5, 6, 7 anni, i genitori, gli insegnanti a scuola e gli chiedono, ma tu cosa vuoi fare da grande? Allora, e qui abbiamo un gruppo di bambini che ha già la risposta pronta, l'astronauta, il carabiniere, la ballerina. E poi c'è un altro gruppo di bambini che dice ovviamente, ma io non lo so perché magari a 5 anni non sai neanche ancora come gira il mondo, giustamente. Vi ho fatto tutti questi esempi generazionali per dirvi cosa? Che noi siamo sempre stati abituati inconsciamente, inconsapevolmente a vivere nel futuro. E in questa connessione così particolare, anche un po' caotica, diciamolo, quello che ci tiene in piedi è la speranza, fascio di luce che si apre. La speranza dei genitori in un mondo migliore per i propri figli. La speranza nostra nel trasformare questo mondo nel quale mettere al mondo dei figli. Ed è la stessa speranza di mia nonna, che va verso i 90 anni e che puntualmente mi dice, lei me lo dice in dialetto, ma io il mio dialetto ve lo risparmio perché non è molto carino da sentire. Mi guarda e mi dice, noi abbiamo già dato, però voi avete un mondo in mano. E in effetti la nonna ha ragione. La nonna ha ragione. Dobbiamo scegliere in quale battaglia impiegare le nostre energie. E vi ho fatto tutto questo discorso straordinario perché noi possiamo dire tre cose. Il futuro non possiamo calcolarlo. Il futuro non possiamo prevederlo, o perlomeno non al cento per cento. E terza, ahimè per l'essere umano. Il futuro non possiamo controllarlo. Ciò che non puoi gestire diventa ignoto e l'ignoto fa paura. Noi cosa possiamo fare? Abbiamo una grande possibilità, che è quella di vivere il presente. E qualcuno di voi magari si starà chiedendosi, arriva questa ragazza di 24 anni che ci dice vivere il presente. Cosa vuol dire vivere il presente? Vuol dire esserci ora. Guardate l'immagine dietro di me. Il nero rappresenta il buio, qualcosa che noi non conosciamo. La luce rappresenta il presente, il nostro raggio d'azione. Esserci ora vuol dire realmente ascoltare la persona che ci sta parlando davanti a noi. Vuol dire fermarsi. Viviamo una vita talmente caotica e dinamica. Fermiamoci per capire chi siamo. Cosa vogliamo? Da noi, dagli altri, dalla mamma, dal papà, dal fratello, dal fidanzato, dagli amici. Vuol dire anche saper cogliere delle opportunità. Buttarsi, rischiare, sbagliare, fare un'esperienza all'estero. Perché voglio provare qualcosa di nuovo? O addirittura cambiare la propria vita. Così, d'amblè. Magari licenziarsi da un contratto a tempo indeterminato e mettersi in proprio. Per qualcuno può essere follia. Ma tu credi in quel progetto. Vuol dire anche, e spero che abbiate vissuto almeno una volta nella vita questa sensazione perché è straordinaria. Io la vivo ora su questo palco che è energicamente molto attivo e la vivo ogni volta che guardo la Formula 1 dal vivo. Vivo quel tipo di emozioni anche con i ragazzi che mi seguono. Ed è sentire la vita che scorre nelle vostre vene. Siete vivi. Siete vivi. E vuol dire anche avere fiducia nella vita. Indipendentemente dalle vostre credenze. Ma avere fiducia. Cosa vuol dire? Magari arrivano delle proposte di lavoro che non hanno senso e tu ti chiedi, sì, certo, ma io sarò all'altezza? Perché hanno scelto me? Non riesci a trovare il quadro della situazione. Ma ti butti. Perché vi dico questo? Io lavoro nell'ambito del motosport. Mai nella vita avrei pensato di fare questo tipo di lavoro. Perché ho fatto tutt'altro. Sono molto giovane, ho 24 anni, ho studiato, ho lavorato in un'azienda nell'ambito della moda e ho studiato per buona parte della mia vita recitazione perché quello era il mio sogno più grande. Quindi se uno fa la connessione dei punti dice ma scusa ma tu cosa vuoi fare alla fine? Perché niente aveva senso. In realtà poi, col senno del poi, ho capito che tutto aveva un collegamento straordinario perché sono riuscita a lavorare su quelle qualità che mi sono servite oggi a fare il lavoro che faccio. Avere fede nella vita. Là c'è il futuro nel buio. Qui, e lo vedete bene perché sono illuminata, c'è il presente con la luce. Veniamo bersagliati in continuazione da notizie negative. Crise climatica, quella economica, la pandemia, la guerra. E noi cosa dovremmo fare? Cerchiamo di dare le risposte oggi. Costruiamo oggi il nostro domani. Agire, scegliere, può essere banale ma non lo è. Alla mattina mi alzo e dico ok oggi sono proprio carica, voglio andare a lavorare e sarò molto produttiva. Un altro giorno mi alzo e dico no, oggi proprio non lo voglio. Magari può essere lunedì mattina, super presto e non hai voglia di andare a lavorare e non sarai produttivo, sarai distratto. È sempre una questione di scelte. E purtroppo spesso cosa capita? Che l'essere umano nella sua complessità la vita la dà per scontata. vi chiedo, a quanti di voi è capitato di posticipare qualcosa al domani per alzata di mano? Beccati, qua vi ho beccato, vi ho stanato. In effetti facciamo sempre così. Vuoi iniziare a mangiare sano? No, facciamolo domani perché davanti ho le lasagne di mia nonna. Non posso ovviamente non mangiarle. Vuoi iniziare ad andare in palestra perché c'è la prova costume d'estate. No, oggi ho lavorato tanto, sono stanco e non vado. Devo dichiararmi alla persona che amo ma non ho il coraggio e lo faccio domani. Devo affrontare un argomento che mi fa soffrire, non ho voglia di questi bad vibes e lo farò domani. È sempre domani, ma è un domani indefinito. Vi siete mai chiesti fino a quando ci sarà quel domani? Io sì. L'ho vissuto ed è una cosa che probabilmente mi segnerà per tutta la vita. Avrei sempre voluto dire ad una persona, si chiama Giuliano, quanto lo stimassi dal punto di vista, si sente, questa cosa che è viva, dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista umano. Con la persona non c'è più. Olè. E io quel domani non l'ho mai più avuto con lui. La diamo per scontata. E proprio con l'immagine che abbiamo dietro, che mi arriva così, questo è il presente. E ho scelto il bianco. Siamo partiti dal nero e arriviamo al bianco. Perché? Perché se noi oggi spingiamo al 100% in quelle che sono le nostre possibilità, il futuro che prima era così buio non lo sarà più. Sul foglio bianco che avete qua dietro voi potete fare tutto quello che volete. Potete scrivere, usare i colori che volete, tutte le tonalità della palette di prima che vi ho raccontato. Potete amarlo, potete odiarlo, potete lasciarlo scorrere, darlo per scontato o viverlo. Potete ritagliarlo, buttarlo, fate tutto quello che volete. Abbiamo parlato del futuro, che non potevamo calcolarlo, non potevamo prevederlo e controllarlo. Il presente, posso calcolarlo? Ma qualcosina forse sì. Posso prevederlo? Non del tutto, certo, ma se faccio delle azioni so che forse ci saranno anche delle conseguenze. Ma il terzo punto, che è quello più importante per l'essere umano, come siamo noi, io il presente posso gestirlo e controllarlo. Ciò che posso gestire non fa paura e non è ignoto. Siamo in un teatro e ne approfitto di questo straordinario scenario che mi fa venire la belle doca, per dirvi cosa? Un esempio molto semplice. A teatro, guardate questa luce, ok? Se mi giro indietro, ora qui siamo molto illuminati, ma se ci fosse buio, come magari davanti a un monologo, qualcosa del genere, io mi giro indietro, quello è il buio ed è il mio passato. Io mi giro in avanti, non vi vedo, vedo alcuni di voi. Futuro, buio. Mi guardo i piedi, mi guardo un pochettino a destra, un pochettino a sinistra. Questo è il mio campo d'azione, il mio raggio di luce che vi ho detto prima. Occhio di bue, questo è il presente. Il futuro non inizia domani, il futuro inizia oggi. Grazie. Grazie.